Sarà come fare un tuffo nel passato e scoprire come era possibile divertirsi. Non era, non ancora, digitale. Arriva Fanno la prima mostra del giocattolo. Un mondo magico è al tempo stesso reale, ricostruito da un'idea dell'associazione Il Paese dei Balocchi, da sempre impegnata sui temi dell'infanzia e dell'educazione. L'allestimento dal titolo Cose giocate è reso possibile grazie al contributo di Renata Gossoli, esperta di letteratura per bambini, che metterà a disposizione la sua collezione, comprendente giocattoli che vanno dall'inizio del Novecento fino agli anni Sessanta. L'idea è venuta qualche anno fa perché ho visto questi giocattoli esposti su Mercatello sul Metauro. È una mostra molto importante perché questa signora Renata Gossoli è una persona che ha lavorato sempre nel mondo del giocattolo e del gioco e soprattutto è una appassionata di giocattoli e quindi li ha raccolti tutto il suo arco di vita. Come dice il titolo della mostra Cose giocate, sono giocattoli appartenuti a qualche bambino, che poi magari ormai è cresciuto e è anche adulto o anche vecchio, e che però sono vissuti questi giocattoli, quindi questa è l'importanza di questa mostra e di questi giocattoli. Marionette, teatrini, macchine da cucina e alcuni pezzi unici come cavallini con carretto e stufe in ghisa. Questi sono solo alcuni degli oggetti che verranno esposti a partire da sabato 30 maggio alle ore 18 a Palazzo San Michele il 6 giugno. Poi sempre nella stessa location si terrà un convegno dal titolo A che gioco giochiamo, ma i progetti e gli obiettivi del paese dei Balocchi non terminano qui. La nostra idea principale è quella di fare un museo affano del giocattolo e del gioco. Affano perché è la città dei bambini e delle bambine e perché soprattutto c'è questa tradizione importante di lavorare con i bambini. Quindi è una mostra, è un museo, sarà un luogo dove poter rendere felici i bambini, ma soprattutto anche gli adulti perché giocare insieme con i propri figli è la cosa forse più importante che ci sia.